La città di Taranto ormai è ridotta a un immenso abito di arlecchino, a rattoppi su rattoppi, a sprofondamenti vari, a lavori iniziati dalle ditte che operano o per enti o per utenze private e poi chiaramente queste ditte non completano i lavori, non asfaltano. Vi stiamo facendo vedere vari punti della città, come consigliere comunale ricevo tantissime segnalazioni. Ci troviamo a Taranto 2 in via Ospedalicchio, l'Enel ha effettuato dei lavori e guardate cosa è rimasto. Non si sono degnati neanche di asfaltare, hanno buttato forse un po' di cemento, un po' di pietrisco e via. Guardate qui, qui uno sprofondamento con tanto di indicazioni, di transenne della polizia municipale, della polizia locale. Vedete qui uno sprofondamento, la gente che cade un giorno sì e l'altro pure. E proprio in questa buca transennata è caduta una signora, la signora che ha sollecitato il mio intervento. Purtroppo i fatti tristi parlano da soli. E poi guardate proprio in lunghezza, in profondità, guardate tutto questo tratto che è stato tagliato, è stato interessato dai lavori. Così le ditte sono venute, hanno tagliato il manto stradale, hanno fatto i lavori e come si suol dire, chi si è visto, si è visto. Non c'è l'ombra, non c'è la traccia minima di asfalto. È rimasto qui la pietra viva, forse un po' di cemento, i dislivelli. Tanto chi li controlla, tanto il comune di Taranto non fa controlli e quindi le ditte possono tranquillamente approfittare. Questo avviene, succede, quando ci troviamo in una città non amministrata. Perché abbiamo un'amministrazione comunale che non amministra, non ha amministrato in quattro anni e mezzo di gestione Melucci, non ha amministrato con il commissario e ora di fatto ha ripreso l'amministrazione Melucci e i risultati, signori cari, sono questi. Guardate un po'. Quindi il neoassessore ai lavori pubblici, Mattia Giorno, avrà parecchio da fare e vedremo cosa farà. Noi saremo molto, ma molto attenti e pronti a sollecitare la sua attenzione. Guardate qui se è possibile uno scempio del genere. Questa è Taranto, la città in cui le ditte fanno i comodacci propri perché l'amministrazione comunale non le controlla. Ma ora da consigliere comunale non voglio essere presuntuoso, ma vi farò vedere quante ditte verranno prese per le orecchie e quanti funzionari che dovrebbero controllare e non controllano verranno anch'essi presi per le orecchie, sempre ovviamente in senso metaforico e nel rispetto della loro dignità dei lavoratori. Grazie a tutti.